Abbiamo visto che ci sono 50.000 persone che stanno aspettando una risposta dal governo, persone che come la signora sono sei anni che devono vivere dei propri risparmi perché gli hanno scippato la pensione, c'è il 60-70% delle famiglie italiane che non riesce a pagare puntualmente il mutuo o l'affitto, ci sono decine, centinaia di persone, di negozianti, di piccoli artigiani, di piccoli imprenditori, di partite IVA che stanno chiudendo e stanno fallendo, c'è una situazione generale del Paese in cui ci si entusiasma per il zero virgola della crescita e si cercherà con lo zero virgola di mangiare un pezzettino di deficit per poter fare una manovra e tutto l'establishment del PD e tutto l'establishment istituzionale e del governo è concentrato su questa riforma che non si capisce che cosa voglia dire perché se il Senato serve allora lo facciamo eleggere dai cittadini, se il Senato non serve lo togliamo. Tutti questi tecnicismi ricordano un po' quello che è successo con le province dove alla fine è venuto fuori un ibrido, un aborto dove non si eleggono più le province ma restano in capo tutti i costi.